bello a tutti compagnia con il vostro chizio che parla in compagnia uno che saluta uno bello a tutti compagnia con il vostro chizio che vi parla in compagnia di altra gente ciao sono palco89 ciao sono alessio 08 e io sono il vostro caro angel bella ragazzi il vostro caro angel un po scopiazzato da poco eh vabbè comunque ci troviamo su league of legend per provare una nuova modalità chiamata chiamata uno per tutti specchio 5 contro 5 in modalità uno contro tutti specchio uno contro tutti specchio è uno per tutti vuoi rifare da capo allora andiamo avanti così che è meglio esatto avvia la partita uno contro tutti specchio anch'io uno ha detto uno contro tutti specchio che cazzo di cos'è adesso stiamo scegliendo i personaggi e come vedete sotto ci sono nominati tipo del grande fratello ovvero sì praticamente bisognava scegliere dei personaggi noi abbiamo scelto grandissimi quella merda cat e tu non dire la roaccia chiamola polizia non lo so perché qualcuno ha rifiutato la partita comunque vabbè stavo dicendo ormai per finire il discorso lo so praticamente noi dobbiamo scegliere un personaggio e man mano che tutte le persone scelgono il personaggio vengono nominate come vedete timo adesso c'è quattro votazioni e due c'è la gianna uno indeciso tra kartus e timo se poi appunto capita timo tutti noi e dieci persone che useremo timo che ha l'abilità passiva che se sta fermo più di tre secondi diventa invisibile e sarà tipo cerca così tipo guardie ladri ormai esce cosa no no gianna 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 sapete che non fare un cazzo di danni perché un merda di supporto si è tipo usare dieci soraka praticamente all'inizio ci spettineremo i capelli con i tornadi e basta mi pare un deja vu questo e tu poi dove cazzo hai detto tutti contro uno poverino quello lì ma non capisci nulla ci sarà la modalità tutti contro timo? no non è giusto tct tutti contro timo parca è però sempre figo attenzione sta partita sarà tornadi a volontà si salta ragazzi ahah guarda che faccio una guild seee ce so io vai bello vai bello fox si parte con un cane vai fuori vai fuori si si no ora c'è una distanza con la torre l'abbiamo perso ma tutto daaa doppia uccisione di adesso è giusto otto funziona voglio prendere la tripla la tripla di adesso è giusto otto da cosa? ma infatti da dove? quella a destra, quella a destra ci ha ucciso e c'è il plan oh cazzo si 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 al posto che la caccia al tesoro la caccia al timoro esatto dopo questa battuta qua angelo viene eliminato dalla vita posso pure uscire da casa mia e andare a fare il barbone esatto perchè nessuno ti prenderà mai al lavoro ah ma lei era quello lì che era la battuta pessima del 2014 niente niente fuori sei fuori let's do this venite qua dentro e state mettetevi fermi tutti qua dentro fermi quando vedete lo schermo che si offusca vuol dire che siete invisibili ma davvero però io ce li ho eccole qui no dai ci ha fatto scavare no no non ci ha visto troppo lontano era la W cos'è la W? è una doppia e diventi più veloce fermo vado che guarda vengono qui li andiamo male 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 esatto noi siamo i boy scout che aspettiamo no no angelo non timore scusate scusate Povero quel ragazzo! Poverino quel ragazzo! Noi abbiamo fatto la bastardata inizio però poi ci stanno orando, mi sento che... Non è una coincidenza che sono scioppati questi qua, mi sento che sono tipo un gruppo d'amici, sai? Poverino... Finito adesso si entra la gara, che becchi erano più a funghi! Esatto, poi comincia a diventare un campo... stiamo cercando campi favorito! Ma davvero sono infiniti sti funghetti? Si si ricaricano... Oddio, esatto! Ma sti sotto! C'è tutto a carico! Dimmi che stai registrando stai? Questo campo di nato! Si si! No dobbiamo morire! Stefano, pure se muori! Passate di qua bastardi! Eh raga, però qua sopra, qua davanti non ci avete pensato! Un attimo Angelo, con calma! Guarda, guarda, guarda! Questo qua voleva farci saltare la nostra barriera! Ah ma proprio un camica a zero, mi sa, l'hanno impiato! Si perché l'ho centrato di più! Hanno detto vai un po' a vedere che cazzo c'è lì davanti che mi sa che... Non ce l'abbiamo sentito! Mi comincio a preoccupare di non vedere il passare! Sbagliato! Colpito! Sono morto! Sono morto! Sono morto! Mi serve aiuto! Qualcuno ha chiamato! Mi serve rianimazione! Mi serve rianimazione! Un capo di chi c'è dico! Minion Kamikaze! Sparare! Ci sta distruggendo! Si è caricato il telefono! Siamo morti ragazzi! Mi è piaciuto giocare con voi! No raga, niente, hanno sfondato! No! Segnaliamo tutti! Segnaliamo tutti! Segnaliamo tutti! Segnaliamo tutti! Mi sta facendo... Raga, segnaliamo tutti! No! No!